I P.I.P. Fermate! Fermate! St'agazzata hai preso! Questa cosa è batte, no? Sai lavorare un parcheggio, non è fare la guardia, è diverso. Fa la guardia un parcheggio? Sassetto, ma fatti le chiave. E' una balla, ma questo si fa? Grazie, Gesù, per averci adottate nella tua vita. Gesù è come il navigatore della macchina. Perché fai il navigatore quando sbagliate strada, quando vi perdete? Mica dice, mi era ammazzato, avevo detto gira a sinistra, sei andato a destra, a domani! Ricalcola il percorso. Vi riporta sempre a casa. Già ti sei fatto cacciata al centro commerciale. Io c'ho la fila di gente qua fuori che mi sta a chiedere lavoro. La fila per fare guardia in grado. Vedi, rifugiati, ecco, sono affini come questi noi. Fino a colpa la mia. Questi chi sono? I vicini. Come ti chiami? Agnese. Stefano. Ti volevo ringraziare. Andai tranquillo. Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Un'iniziativa che sostiene i ragazzi che hanno deciso di arrivare in castità al matrimonio. Perché tu ci devi ancora pensare? Sì. Come tutti gli altri. È una mia scelta. Cioè, come sai quando ti devi fermare? E lo sa Dio quando mi devo fermare. Io voglio rimanere pura. Tu sei pura.